Sì, sì, mi hanno fermato, adesso mi vedete, sono qua fermo prima del semaforo. Ok, sono fermo. Mi accorto, il tempore è già lì, noi arriviamo senza radio, quindi nascondi la radio. Scusate per il mio inglese, sono italiano e parlo molto bene. Questo è un Ferrari 250 GTO. Scusate per il mio inglese. 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 Il ferrari ha fatto solo 33 cari. In il mondo. E... 63 milioni di euro? Scusate per il mio inglese. 6 milioni euro uno dei 33 autori pagano 68 milioni euro solo 33 milioni Why are you driving fast? Who do you think you are? Graham Hill?